I carabinieri del reparto operativo della compagnia di Teramo, a poco più di un mese dal blitz nel reparto di fisiopatologia della riproduzione, tornano all'ospedale Mazzini, stavolta indirizzati verso il reparto di neurologia. E nel laboratorio dove si eseguono le elettromiografie, oltre al tecnico dipendente dell'ASL, trovano un medico abusivo al posto del primario di neurologia, una dottoressa che non aveva alcun titolo per eseguire l'esame in questione. Dalla tabella degli orari risultava che in servizio ci doveva essere il primario, Antonino Uncini, ma quest'ultimo non era il reparto. In sua vece c'era la dottoressa, che è una sua collaboratrice all'Università di Chieti, dove Uncini è docente ordinario di neurologia. A parte la collaborazione in una struttura che non ha nulla a che fare con l'ASL di Teramo, la dottoressa pare non avesse alcun titolo per esercitare la professione medica all'interno dell'ospedale Mazzini. Non solo non ha alcun contratto con l'ASL, ma non ha nemmeno l'autorizzazione dell'azienda a frequentare il reparto, né tantomeno l'assicurazione per esercitare l'attività. Da alcune indiscrezioni è emerso che dal mese di settembre la dottoressa Fantasma stava lavorando gli esami diagnostici senza averne la titolarità, referti successivamente firmati dal primario Uncini. Nel fascicolo aperto dal sostituto procuratore Davide Rosati si ipotizza l'abuso di ufficio e la truffa. Al di là dei reati in senso stretto, la presenza al Mazzini di un medico Fantasma suscita ora sconcerto, tanto più che l'elettromiografia è un esame invasivo, in quanto è previsto l'utilizzo di un ago per esaminare i muscoli. Al di là delle capacità professionali della dottoressa Fantasma, quindi, un qualsiasi incidente avrebbe avuto conseguenze devastanti per lei e per la ASL. I carabinieri hanno sequestrato 63 cartelle cliniche. Si tratta delle elettromiografie eseguite ogni lunedì pomeriggio dall'arrivo del professor Uncini all'ospedale di Teramo. I carabinieri hanno acquisito i fogli dei turni del personale e stanno ora verificando, dalle testimonianze di dipendenti della ASL e di pazienti, chi in realtà lavorasse il lunedì pomeriggio in quell'ambulatorio. Il docente universitario era stato nominato primario dal direttore generale Giustino Varrassi ai primi di giugno, dopo l'espletamento di un concorso, prova di cui la CGL aveva chiesto l'annullamento per irregolarità nella formazione della commissione d'esame. E' questa oggi la sesta inchiesta aperta sull'ASL Teramana dalla Procura. In quattro è indagato anche il manager Varrassi, quella sulla promozione dell'urologo Corrado Robimarga, quella sul mancato procedimento disciplinare a quattro medici indagati per turbativa d'asta, quella sull'uso dell'auto blu e quella che ha portato al sequestro e poi di sequestro dei laboratori di fecondazione assistita.